Si attenua all'emergenza rifiuti nei 19 comuni del lato Gesa Agrigento 2. La ditta Catanzaro, titolare della discarica di Siculiana, è creditrice di circa 600.000 euro. Dopo quattro giorni di stop ha manifestato l'intenzione a riaprire i cangelli agli autocombattatori, consentendone il conferimento dei rifiuti. Un disguido burocratico però porterà i rifiuti dei comuni agrigentini nella discarica di Gela. La chiusura d'oltranza dell'impianto di Siculiana aveva indotto il liquidatore di Gesa Teresa Restivo nell'emore che il Dipartimento regionale sui rifiuti concedesse alla proroga del servizio alla ditta Catanzaro il permesso di conferire nella discarica Nissena. Permesso che da Palermo è stato concesso quasi simultaneamente al decreto di proroga. Conflitto questo che aggraverà ulteriormente la difficile situazione economica della società d'ambito. Si stima che il trasferimento dei rifiuti a Gela costerà in più circa 10.000 euro al giorno rispetto allo stesso servizio svolto nell'impianto di Siculiana. In attesa di ulteriori sviluppi rimangono confermati sia lo sciopero dei lavoratori in programma lunedì e martedì prossimi che l'ultimatum del prossimo 13 novembre del raggruppamento delle imprese. Termine ultimo dato dalle ditte alla società d'ambito per il pagamento dei crediti che ammondano a circa 11 milioni di euro. Scadenza che qualora non venisse rispettata porterebbe alla risoluzione del contratto con GESA.